Buongiorno e buona domenica, fratelli rosa nero e anche buona vigilia di Ferragosto. So che molti di voi che vivono in Sicilia magari si stanno preparando per andare in spiaggia, si stanno preparando per la notte, si stanno preparando per dormire lì e fare il bagno a mezzanotte, cose che facevo anch'io fino a quando vivevo a Palermo. Ormai tempi andati, domani, semplice e grigliata con gli amici come si usa qua al nord. Ma parliamo della partita di ieri, l'esordio del Palermo in Serie B. Ragazzi, ma quando avete visto entrare il Palermo e avete capito che non era la Serie C, come vi siete sentiti? È stato emozionante tornare effettivamente nel calcio che conta. Ieri il Palermo nel primo tempo ha fatto una grandissima partita, una partita strameritata, soprattutto perché mi sono andati i primi 45 minuti, passati in vantaggio, un grandissimo contropiede, rigore sacrosanto, espulsione sacrosanta. Elia ieri grande partita, rigore però segnato da Brunori e non poteva che essere lui ad aprire le danze della Serie B per il Palermo. Matteo Brunori, 1-0. Viene annullato il 2-0 per fuorigioco, peccato. Un altro grandissimo contropiede, stavolta l'aveva messa dentro Elia, un ex della partita, annullato per fuorigioco. Poi il secondo tempo diciamo che lo facciamo sottotono. Il Perugia giustamente deve recuperare, deve rimontare lo svantaggio di 1-0. Non ne approfitta, non è cinico, non crea veramente cose pericolose. Ennesimo contropiede, Brunori lancia Elia e fa 2-0. Stavolta non esiste fuorigioco. Il Palermo vince meritatamente. Ancora il Barbera si dimostra essere un campo inespugnabile per chiunque viene a Palermo. E partiamo con una grande vittoria. E partiamo con tre punti importantissimi che danno soprattutto morale. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto fare un sacco che Corini abbia tenuto il modulo vecchio visto che ancora ci sono dei giocatori abituati a giocare al vecchio modo prima di insediarsi per forza con le sue idee. È stata veramente una cosa molto intelligente quella fatta da Eugenio Corini solo che vederlo nella panchina del Palermo mi fa impressione perché mi fa capire quanto sto invecchiando. Perché io Corini l'ho visto giocare con la maglia del Palermo adesso lo vedo allenare il Palermo. Purtroppo si invecchia e ce ne accorgiamo anche da queste cose. Contento per il risultato? Fatemi sapere la vostra su questa Palermo-Perugia io vi saluto, vi auguro ancora buona domenica vi auguro di passare un bellissimo Ferragosto Forza Palermo! Forza Palermo-Perugia Forza Palermo-Perugia